La sezione panoramica del pannello Ranking Coach ti consente di visualizzare i feed selezionati e le attività consigliate da svolgere. Dal pulsante in alto Filtra feed puoi scegliere se ricevere e visualizzare i dati relativi alle classifiche di Google, alla presenza sui social media, alle inserzioni nelle directory locali, alle menzioni sulla tua azienda o alle recensioni online e molto altro ancora. Inoltre, puoi scegliere se ricevere le notifiche su categorie di visualizzazione dei feed, motori di ricerca, social media, ecc. Puoi scegliere i concorrenti, tutti o alcuni. Puoi scegliere il tipo di notifiche, se ricevere feed solo sul tuo sito, sulla concorrenza o entrambi. Cliccando su Vedi le impostazioni di notifica via e-mail puoi accedere alla sezione Gestisci progetti, da cui ti è possibile scegliere se ricevere le notifiche in tempo reale o un riepilogo settimanale e se ricevere notifiche relative al tuo sito o sulla concorrenza. Dalla scheda Report generale puoi configurare l'invio automatico del report periodico, specificandone la frequenza, settimanale o mensile, i dati dell'intestatario del servizio e una e-mail corretta per l'invio dei report. Una volta configurate le impostazioni da te desiderate, salvale!